Erano le 15 quando nella parocchiale di Castione della Presolana faceva ingresso la bara contenente la salma di Giacomo Benzoni, seguita dai familiari affranti dal dolore e dagli amici, i suoi ex alunni, il sindaci dei paesi dell'Alto Piano e presidente della comunità montana Valle Seriana. Il ricordo di Mino è di una brava persona, nessuno a Son Gavazzo potrà mai dire che Mino non fosse una brava persona. Il ricordo dell'insegnamento che ha lasciato anche e soprattutto sottoscritto in termini amministrativi è di amministrare per il bene del paese e soprattutto con una frase che non dimenticherò mai, come un buon padre di famiglia. Mino in questo senso si è sempre comportato bene e tutti gli amministratori devono sapere ricordare queste parole. Amministrare come un buon padre di famiglia che significa amministrare proprio per il bene del paese ma con onestà e soprattutto dando il buon esempio che è la prima cosa. La tragica scomparsa dell'ex sindaco di Son Gavazzo, insegnante in pensione, morto sotto gli occhi della moglie e del figlio, ha destato sconcerto in credulità. Tutti amavamo Mino pur nella sua riservatezza, nel suo modo di essere non visibile, non esageratamente estroverso, però una persona schietta, onesta, importante. C'è un aneddoto particolare che ricorda? Io più che un aneddoto vorrei ricordare che la casa di Beniamo, che oggi ospita adolescenti, anziani e oratorio, è stata sistemata e ristrutturata con una grande voglia di Mino e di tutta l'amministrazione perché diventasse un centro sociale importante. Questo è vero che è stata una donazione di Beniamo appunto che è un altro grande cittadino illustre, ma soprattutto l'abbiamo ristrutturata e questo è l'esempio più importante di cosa significa amministrare per il bene del paese. Il tragico fatto è frutto di una serie di incredibili fatalità. La cima della betulla che stava tagliando si è piegata e dopo essersi appoggiata su un cavo elettrico ha fatto rimbalzare all'indietro la motosega che ha colpito Benzoni con violenza, provocandogli l'amputazione di un braccio. L'ex sindaco è così morto dissanguato.